buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo sempre qui di fronte a noi galaxy s 21 ultra ma con una novità e sì perché questo si è appena aggiornato proprio pochi minuti fa alla one ui 3.1.1 allora vi ricordo in breve come si fa ad aggiornare il dispositivo andate in aggiornamento software scarica e installa andrete a vedere qui che vi comparirà ovviamente tutta la pagina dell'aggiornamento se ne andiamo a vedere nell'ultimo aggiornamento effettuato possiamo vedere che non viene citata espressamente la one ui 3.1.1 ma nomina semplicemente una overall stability of function include ovvero una miglioramento al generale delle funzioni e delle impostazioni però comunque l'aggiornamento è di ben 971.76 mega quasi un gigabyte di aggiornamento che in tempi abbastanza remoti corrispondeva a quasi ad un major update come il passaggio da una versione di android ad una nuova però appunto sembra che quindi non ci sia niente di diverso andiamo quindi a controllare le impostazioni del dispositivo nella versione del software allora la one ui risulta ancora essere la 3.1 ma è stata una decisione di samsung il conservare il nome 3.1 per il dispositivo che non fossero il flip 3 e il fold 3 infatti soltanto questi due dispositivi hanno il nome 3.1.1 mentre gli altri conservano il vecchio nome perché appunto siccome a breve partirà il programma della beta della one ui 4.0 per android 12 ci saranno quindi tutte tantissime altre novità che vedremo poi verso la fine dell'anno quindi allora sembra che quindi non sia cambiato niente anche le patch di sicurezza sono rimaste al primo agosto ma non è proprio così infatti possiamo vedere che ci sono tante migliorie sotto la scocca sebbene non così profonde innanzitutto andiamo a parlare della one ui home che è passata da una versione leggermente più piccola da una versione leggermente precedente infatti l'unico numero che è cambiato è il quello finale che quindi corrisponde ad un passaggio di versione non troppo elevato così come tutte le altre applicazioni che io vi faccio vedere ora ovvero la galleria che passa che non è che questa non è cambiata invece perché è rimasta la stessa di prima è cambiata invece le impostazioni e le patch di sicurezza dei sensori biometrici infatti abbiamo che questa è passata dalla punto 2 alla punto 3 per le impronte digitali è il riconoscimento del volto dalla punto 15 alla punto 26 cioè come punto 15 intendo solo l'avere il numero finale mentre quindi non c'è stato questo grande passaggio di testimone verso una versione più recente però vediamo quelle che sono le novità di questo tipo di aggiornamento questo è un articolo di hd blog che fa riferimento alle novità l'allora innanzitutto ci riporta che le animazioni sono più rapide e ne sono state introdotte di nuove le app si aprono più velocemente c'è chi riferisce in una dissipazione del carolo interno più efficace poi abbiamo invece le next processing ovvero l'elaborazione avanzata che si chiama ora processing speed velocità di elaborazione può essere impostato in tre diverse modalità ovvero ottimizzato alto o massimo e possiamo vedere direttamente questo tipo di novità ovvero andiamo nelle impostazioni della batteria andiamo in more battery settings e qui abbiamo infatti la nuova voce che prima si chiamava enhanced processing ora si chiama processing speed con queste tre opzioni ottimizzata alta o massima ovviamente di default il dispositivo sono il dispositivo setta in ottimizzato e questi settaggi queste impostazioni comunque non si applica nei giochi ma verranno gestite dal game performance booster del game launcher quindi non questa è la prima novità successivamente vediamo invece che è stato introdotto un nuovo toggle ovvero la modalità notte bedtime mode se noi lo andiamo ad attivare porterà tutto il telefono in scala di grigi e quindi permetterà di risparmiare un po' di batteria magari oppure per esempio di notte potrete far riposare un po' di più i vostri occhi poi anzi qui è la telegram al momento comunque non vi posso confermare quelle che sono comunque le prime due opzioni ovvero le animazioni sono più rapide ne sono state introdotte di nuove e le app si aprono più velocemente insieme a chi rifeisce di una dissipazione del calore interno più efficace perché l'aggiornamento è arrivato soltanto da un'oretta e quindi non posso confermarvi ufficialmente in questo video tutto ciò questo sicuramente ve ne potrò parlare nel patch di nel video delle patch di settembre che arriveranno tra qualche giorno sulla gamma s21 quindi aspettatevi a breve un nuovo video per ora non c'è nient'altro da dire se non i saluti e ci vediamo in un prossimo video un saluto a tutti da real user 101 grazie